Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale, i fatti del friulio occidentale in primo piano. In apertura la politica, il tema del referendum sulla legge elettorale continua a tenere banco nel governo regionale. Domani è previsto un vertice di maggioranza. Entra nella fase cruciale il confronto politico fra le forze di maggioranza del Fiori Venezia Giulia sulla proposta di Salvini di un referendum con il quale cancellare l'attuale quota proporzionale della legge elettorale e arrivare a un sistema maggioritario. Domani abbiamo una ruota di maggioranza, noi siamo in attesa di cosa decidono di fare gli alleati. In mattinata a Trieste Federica ha ribadito le posizioni della Lega e ha anticipato la linea che sosterrà nel confronto con Forza Italia e i progetti FWG che sembrano tentennare rispetto all'avvio di un'azione referendaria. La scadenza è la riunione del Consiglio regionale di mercoledì. Io rispetto per tutte le componenti di maggioranza, ci sarà una discussione con tutte le componenti di maggioranza e ovviamente la Lega porterà le sue ragioni. Mi auguro che tutti capiscano che verso un proporzionale puro si fa un danno non alla Lega ma ai cittadini italiani e anche del Frivense Giulia. Per un proporzionale puro penso che sia in controtendenza rispetto alla volontà dei cittadini che vogliono scegliersi la maggioranza e decidere chi governa. Le valutazioni le farò quando avrò una posizione da parte di tutte le forze politiche, Lega compresa. Il Presidente della Regione inoltre ha ribadito il giudizio negativo su quello che ha definito il governo delle tasse. Probabilmente chi sta a Roma nel PD 5 Stelle non si rende conto per esempio dei collegamenti dal Friuli Venezia Giulia. Facciano la TAV come ho chiesto. I 5 Stelle dicono sia la TAV così non serviranno gli aerei, si arriverà velocemente a Milano, a Roma, dappertutto. Ma non è che possono dire no la TAV, no a questo, no a quell'altro, tasse sugli aerei e dopo come ci muoviamo col carretto. E oggi il Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e la Presidente di Friulia Federica Seganti hanno fatto visita alla sede e ai laboratori della Friul Chem di Vivaro, azienda che si occupa di ricerca farmaceutica e che da luglio si è quotata in borsa. Una realtà capace di innovare e mettersi in gioco sul mercato. Questa è Friul Chem, azienda specializzata nella trasformazione di principi attivi per farmaci ad uso veterinario e umano. Nella sede di Vivaro sono stati in visita il Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e il Presidente di Friulia Federica Seganti. L'azienda, guidata dal Presidente Alessandro Mazzola e dall'amministratore delegato Disma Giovanni Mazzola, conta 33 dipendenti e vanta uno dei laboratori di ricerca più all'avanguardia della Regione, composto da un'unità chimica e un'unità microbiologica per il controllo sulle materie prime e sui prodotti finali. Noi ci occupiamo di base di benessere sia per uso animale che per uso veterinario. In campo veterinario abbiamo sviluppato delle nostre tecnologie che offriamo ai nostri clienti che sono le più grosse aziende del settore e nel campo degli integratori alimentari abbiamo deciso di lanciare una nostra linea che si chiama Suppleo e che a breve troverete online soprattutto in Italia. L'azienda pordenonese ha concluso a luglio il percorso di quotazione a Lime Italia, mercato borsistico di riferimento per le aziende con un alto potenziale di crescita, con il collocamento di azioni per un controvalore totale di 4,5 milioni di euro che andranno a finanziare il percorso di crescita dell'azienda. Friulia ha supportato lo sviluppo dell'azienda sottoscrivendo un aumento di capitale di 1,9 milioni di euro. Passare da un'azienda comunque di piccole dimensioni, approcciare i mercati come quello milanese sono passi importanti che ci fanno capire come ci sia un management, una proprietà tesi alla crescita, allo sviluppo e al consolidamento delle attività a Vivaro. Nel 2018 Friul Camp ha realizzato ricavi per 16 milioni di euro. Devo dire che anche il prodotto che è basato sulla ricerca e innovazione sono quelli che erano un valore aggiunto importante e che penso siano anche insiti nel tessuto produttivo del Friulenza Giulia considerando che la nostra regione è tra le prime di ricerca in Europa l'unica regione innovativa d'Italia e quindi evidentemente attività produttive come queste sono nel cuore del Friulenza Giulia, nel cuore produttivo. Passiamo alla cronaca, 20 anni di reclusione e questa la condanna chiesta dal PM Elena Neri per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano. I due aggressori che nella notte del 3 febbraio in Piazza Eschilo, all'Axa di Roma, avevano sparato a Manuel Bortuzzo e alla fidanzata Martina. I due sono accusati di tentato, duplice, omicidio. Nella sparatoria il campione di nuoto che ha vissuto per anni a Cordovado rischiò di morire e solo dopo diversi interventi è ritornato a sorridere alla vita con una lesione permanente però che lo obbligherà per sempre su una sedia a rotelle. Il PM Neri, nell'ambito del processo con rito abbreviato, contesta ai due anche la premeditazione e l'aggravante dei futili motivi, la detenzione, la ricetazione di arma da fuoco e la rissa. Anche il comune di Roma si è costituito parte civile. Cambiamo argomento, è ripartita con le visite ambulatoriali l'attività del reparto di procreazione medicalmente assistita trasferita da Pordenone a Sacile. Per i trattamenti chirurgici si dovrà aspettare però il mese di novembre. È ripartita oggi l'attività di procreazione medicalmente assistita in Friuli Occidentale. La struttura che si è trasferita dall'ospedale di Pordenone a quello di Sacile ha riaperto i battenti anche se parzialmente. Nel reparto, visitato in mattinata anche dal Vice Presidente della Regione Riccardo Riccardi, sono infatti ricominciate le visite ambulatoriali, ma per le attività chirurgiche si dovrà attendere il mese di novembre. Oggi sono terminate le procedure del trasloco. Oggi è il primo giorno che lavoriamo sui pazienti solo a livello ambulatoriale. Il trasferimento delle attività chirurgiche, embriologiche necessita di un mesetto e mezzo ancora di procedure di trasloco, di autorizzazioni e di attivazioni. Per cui partiremo con il mese di novembre con l'attività operativa di primo, secondo e terzo livello di procreazione assistita. Un servizio questo che nel tempo è cresciuto sia dal punto di vista della tecnica sia da quello degli utenti. I numeri sono stati in crescita. Attualmente eroghiamo 700 prestazioni di procedure di alta tecnologia tra tecniche a fresco, tecniche omologhe, cioè con gameti propri della coppia o con gameti eterologhi, quindi anche procedure eterologhe. Procedure a fresco, cioè che vengono eseguite senza procedere a un congelamento preventivo e altre congelate invece da crioconservazione di gameti ed embrioni. Siamo sui 700 che direi che è un buon numero annuale di servizio erogato. E sempre in tema di sanità il Vice Presidente della Regione Riccardo Riccardi oggi ha visitato gli ambiti sanitari del Friuli Occidentale confrontandosi con medici e sindaci. Continua il viaggio del Vice Presidente della Regione Riccardo Riccardi negli ambiti che costituiscono il sistema sanitario. Oggi la tappa del Friuli Occidentale che ha riguardato Pordenone, Saccile e Azzano Decimo. Una ricognizione, dice Riccardi, necessaria per disegnare la riforma del settore. Scrivere una riorganizzazione complessiva bisogna tenere conto di cosa succede assistendo una persona in una casa, seguendola nel percorso di difficoltà che ha fino alla complessità acuta che si risolve dentro l'ospedale. Per questo stiamo andando a raccogliere dagli operatori del settore che sono governati dal sistema dei comuni, quindi dai sindaci, le loro opinioni per riuscire a, per la prima volta credo, riuscire a scrivere una legge che non divida l'aspetto sociale da quello sanitario. Per Riccardi i sindaci con l'esperienza maturata negli anni possono essere una spinta per una riforma complessiva. Ci sono tante cose buone per la capacità dei sindaci, dei sistemi, dei servizi sociali dei comuni di aver dato delle risposte a fenomeni che non sono ancora però complessivamente organizzati. Mi auguro che salga un po' la cultura e esca anche dai comuni da parte dei sindaci una pressione forte affinché si faccia una norma di legge che tenga conto dell'intero fenomeno. Tre problemi segnalati dai partecipanti all'incontro nel municipio di Pordinone e con Riccardi. Ci sono la carenza di operatori e professionisti sociosanitari dei servizi quali dipendenze, consultori e neuropsichiatria infantile, la necessità di una maggiore integrazione tra servizi sociali e sanitari, l'esigenza di maggiori risorse economiche, le liste d'attesa lunghe per le case di riposo, il ritardo nell'erogazione dei contributi alle famiglie con disabili a carico e la necessità di una informatizzazione migliore. Siamo alla cultura, 12 appuntamenti da settembre a febbraio animeranno la rassegna Filo a teatro organizzata da Molino Rosencratz. Uno spettacolo su Leonardo da Vinci entrerà in quattro castelli della regione. Spettacoli per ragazzi e adulti che entreranno anche nei castelli della regione. La quinta edizione di Filo a teatro, organizzata da Molino Rosencratz, propone 12 spettacoli a partire dal 27 settembre fino al 29 febbraio, in collaborazione con Regione e Fondazione Friuli e i comuni di Fagagna, Maniago, Ragogna, Travesio, Zoppola e Valvasone Arzene. In totale 40 attori sul palcoscenico, 6 compagnie italiane, 2 internazionali e 2 workshop, laboratori. Abbiamo veramente un carnet molto vario. Le chicche, abbiamo la biancaneve e la vera storia, assolutamente da non perdere. Al teatro di Maniago, assolutamente da non perdere. Tioro, cappuccetto rosso senegalese e poi, qua c'è una piccola vena anche di orgoglio, abbiamo la conclusione con Annibale del Teatro Gioco Vita, che è una delle realtà italiane più importanti. Durante la rassegna, nei castelli di Ragogna, Toppo, Villalta e Valvasone, sarà proposto in anteprima nazionale l'ospite, scritto da Fabiano Fantini per la regia di Roberto Pagura, con protagonista Leonardo da Vinci. L'idea nasce da un passaggio che ha fatto Leonardo qua in Friuli e ci siamo immaginati un momento in cui lui viene ospitato in un castello. Leonardo non si vedrà, Leonardo sarà raccontato a seconda dei punti di vista dei vari personaggi, il conte, la contessa, la servitù, l'artigiano. Si è conclusa ieri la ventesima edizione di Pordenone Legge, una manifestazione che ha segnato il record di 150.000 visitatori nei cinque giorni di festival. Svetlana Alexievich, giornalista e scrittrice bielorussa, premio Nobel per la letteratura 2015, Pippo Baudo, conduttore televisivo, Bruno Pizzu, giornalista sportivo, Stefano Benni, scrittore, umorista e sceneggiatore, Bruno Vespa, giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Sono solo alcuni degli oltre 600 ospiti di Pordenone Legge, il ventesimo festival del libro con gli autori appena mandato in archivio. All'incontro stampa tenuto a poche ore dalla conclusione, il presidente della Fondazione Pordenone Legge, Giovanni Pavan, con i curatori Gian Mario Villalta, direttore artistico Alberto Garlini e Valentina Gasparet, hanno espresso il grazie ad autori ospiti, scuole, insegnanti e pubblico che hanno fatto di questa festa del libro un indimenticabile sold out per presenza, entusiasmo ed emozione, con un cartellone di 366 appuntamenti distribuiti nella cinque giorni, tra dialoghi letterari, scienza, economia, storia, attualità e voci del pensiero, con 65 anteprime e coinvolgimento di 12.000, fra angeli volontari e studenti. L'edizione 2019 va così in archivio con premessa foriera di buoni ospici in vista della prossima. La Fondazione Pordenone Legge si accinge infatti a siglare un accordo biennale con il Salone del Libro di Torino, presente nei giorni scorsi a Pordenone, con il direttore Nicola Laggioia ed il presidente Silvio Viale, a potenziare la fitta rete di partnership con eventi e realtà culturali, come il Comune di Senigallia con il Festival 20.000 Righe sotto i Mari. Per le prossime settimane sono in vista anche due festival realizzati con la collaborazione artistica della Fondazione Pordenone Legge, come Geografia, Festival a Monfalcone dal 2 al 6 ottobre e Scrivere per Amore, in programma a Verona dal 16 al 19 ottobre. Era questa l'ultima notizia per stasera, dopo di noi Bianconero XXL, condotto da Francesca Spangaro e Massimo Radina. L'appuntamento con il telegiornale di Pordenone è per domani alle 18, perché giocherà l'Udinese, e lasciamo spazio a Poltronissima. Grazie per essere stati con noi. Buona serata. Grazie per essere stati con noi.